Ciao, in questo video vi faccio vedere gli album che ho recuperato a dicembre e a gennaio. Ho deciso di fare il video unito perché a dicembre erano solo due album, se non mi sbaglio. E quindi, niente, allora iniziamo con l'album degli Snooper. Questa qui è la versione di Make a Star, infatti è quello autografato da tutti i membri. E io ho preso, stanna che adesso qua, il set 2 che prevedeva questa cartolina con la firma dei membri. Questa è la firma di Taehyung, credo, non ne sono sicura. E come toccata? Allora, ho trovato un'altra forma di un sangue. Che non c'è che è qui. Ok. Poi il sangue. Poi questo sticker che è sempre sangue. Ok, poi ho recuperato l'album degli Spectrum. Che è stupendo questo album. Canzoni. Tutte stupende. E allora, viene con un posterino do Spy. Eccolo qua. Poi anche il calendario. Che è qua dentro. E poi come forza. Ah, toccata. Ho trovato un Min-J. E poi abbiamo la Unit Card. Che ci sono tutti e sette. Che trisci tessa. Poi ha recuperato l'ultimo album. Dei di Crunch. Dovanti e drittro. La mia canzone preferita è questa. I'm Okay. Mi piace un sacco anche Steeler. Però... Mi piace un sacco anche Steeler. E qui abbiamo... Dylan. E... Yonu. Poi... Ho recuperato... Il re-packaging degli NCT. Questa è la versione di Win-Win. E qua... Ho trovato... Va bene. I ringraziamenti di Win-Win. E la foto per... Dove sta? Eccola qui. La foto per... Di Chan. Di Chan. Un ucciolo. Poi ho recuperato tutte e tre le versioni... Dell'ultimo... Album di New East. E... E... Oh... Allora... Ciao. Qui... Trovato... Chi era? Mi ricordo più... Aaron. Tic-tic-tic-tic-tic. E... 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 Allora... La carta dei fiori... Questa qui... Se non mi ricordo male... Eppi cucciolo! Uuuuh... Uuuuh... E questa altra versione... Detto così... Uff... Venga qui... Qui abbiamo... I... 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 E qua... Il fiore... Mi sembra fosse questo... Uff... Se lo ricorda... No... No... Non era questo il fiore... Il fiore... Era questo... Credo... Sì... Mi sai sì... E... La... Fotocard... Di... Aaron... Qua... E poi... Questo... Che è il photobook... Che preferisco... Uff... Mi piacciono un sacco queste foto finali qua... Bellissimo... Questo photobook... Cioè... Sono tutti... Bellissimi... Sti photobook... E che c'è... Ren... Con le candela... E qua... Ok... Si... C'era questo... Ok... E... Per ultimo... Ultimo... Ho recuperato... Aiut... Tutte le versioni dell'ultimo album dei The Boys... E... Mi piace un sacco questa copertina qua... E anche il photobook... Preferisco... Cioè... Tra queste due preferisco questa... Poi c'è la limited edition... Che è bellissima... Cioè... Guardate... Che bello... Bello disegnato... Sempre... Qui ci ho messo il mio bias... Anche se non siamo ancora a settembre... Ma va bene... Lo stichè... Ma anche questo è un photobook molto bello... Diciamo che come preferenza... Photobook questo... Poi questo... E poi questo... Ma in realtà sono tutti stupendi... E qua... Aspetta... In questa versione... Allora... Tratto... Questa di... Eh... Di... Wall... Credo che sia... È di questa versione... Aspetta... Sì... Ok... Sì... Versione... Eh... Eh... Questa... Sì... È bianca... Sì... Ok... Eric... Mentre... Della... Versione... Questa qui... Lilla... Violetta... Non so neanche io che colore sia... Allora... Qui... Tanto fatto... Sono... Il... For... God... Ogni... 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 Mentre di... Questa... Versione... Trovata... Quanto è... Patato... E... Sì... Questo... Sono tutti gli album... Che ho... Acquettato... In questi due mesi... E niente... Ciao... fe... O... Te... Fa... Ha...